Calcio, Gubbio e Perugia impegnate nel mercato Ternana, nodo societario, l'atratico Gubbio Punta sul responsabile tecnico Marco Bettelli, il Foligno presenta i nuovi acquisti Stoppini e Biviglia Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva, il mercato del Gubbio Con movimenti e contatti in queste ore per centrare alcuni obiettivi importanti Il principale è il ritorno di Marco Briganti, 35enne, che ha però ancora due anni di contratto con il Como Se il portiere Volpe va a Carpi, non è escluso il ritorno di Gianna Rilli I contatti anche per Pozzo della Sampdoria in difesa a De Santis della Roma a destra Pedrelli della Reggiana a sinistra sono più di una soluzione Per l'attacco c'è l'idea di una coppia composta da un giovane e da un attaccante esperto Tra i quali Paponi, Leugubino, Marchi e Guidone, in ribasso le quotazioni di Cori e Girardi Salendo di categoria in Serie B, slitta ancora il closing per la Ternana e la data per la cessione all'Unicusano È sempre di più un enigma Difficoltà anche sul mercato, sono solo piacenti, Defendi, Meccarielle, Valiani, giocatori rosso-verdi Sotto contratto a Venatti e Falletti sono nel mirino del Bologna E il restante della Rosa attende sistemazione Sotto osservazione Firenze, Di Roberto e gli ex Signorini, Varone, Tiscione e Calderini Dopo Sernicola, Salvemini, Battista e Taurino potrebbe tornare alla base anche Sala In Casa Perugia Brignoli è una priorità per il mercato estivo Ma sul portiere di proprietà della Juventus c'è anche l'interesse del Frosinone Ciò richiede uno sforzo economico importante da parte di Santo Padre Sempre sul fronte Juventus gli interessi del Grifo restano su Gans, Macek e Romagna Il reparto più caldo è la mediana, per Maiello c'è sempre la concorrenza del Frosinone Quotazioni in rialzo per Gucer, piacciono molto Colombato, Emanuello e Scozzarella Altra novità è la permanenza di Rizzo, in attacco occhio a Davide Luppi e soprattutto a Igor Coronado Già ufficializzato il riscatto di Gianluca Di Chiara dal Catanzaro Per lui il futuro è in Serie A e probabilmente a Benevento Intanto oggi è stato il giorno della presentazione di Bucchi a Sassuolo E domani sarà il giorno a Perugia di Federico Giunti Il Foligno invece riparte con due folignati, Biviglia e Stoppini Falchetti vogliono puntare sui giovani La presentazione di questi due calciatori, vediamo Quando ti chiamo al Foligno per un folignato che ci è cresciuto Non esiste altra squadra Io che dire, prometto che insieme agli altri ragazzi che sono di Foligno Che conosco e con i quali sono cresciuto Daremo il 155% per questa maglia Perché è sempre stato il nostro sogno poterla indossare E poi è normale, l'obiettivo di tutti quanti è riuscire a fare un campionato importante Vincere non è mai facile E non ho avuto prova a stanno con una super squadra in eccellenza Abbiamo tribolato fino alla fine Però, quindi abbiamo l'obiettivo di fare qualcosa comunque di importante Però l'obiettivo principale, come diceva anche al Presidente e a tutti quanti Sarebbe riuscire a riportare un sacco di gente allo stadio E riuscire a ricreare quella nuvola bellissima che c'era ai tempi dei Cherubini, Pizzimenti Il sogno nostro sarebbe questo Mio personale e penso di tutti gli altri Poi per quanto riguarda il resto parlerà al campo Come purtroppo per fortuna nel calcio è e funziona E sono molto orgoglioso di questa scelta E nonostante le vicende passate con il Foligno fino a dicembre Per molti potrebbe sembrare comunque un'esperienza negativa Ma comunque per me non l'è stata del tutto Perché è stato il primo anno tra i grandi È stato comunque il primo anno in una categoria importante E purtroppo le cose sono andate così Però ecco, quest'anno speriamo di puntare a fare meglio A Gubbio invece è stato presentato il nuovo responsabile tecnico dell'Atletico Gubbio Nella persona di Marco Bettelli che va a sostituire Luca Pierotti Vediamo All'Atletico Gubbio si cambia Marco Bettelli è il nuovo responsabile tecnico Come già annunciato il 49enne Ugubino avrà l'incarico di sostituire Luca Pierotti Approdato a Bassano come vice di Magi Dispiace perdere una figura come Luca Ha detto il presidente Filippo Barbetti Ma siamo orgogliosi che un nostro tecnico Approdine i professionisti Significa che la società sta lavorando bene Lo stesso Luca Pierotti ha sottolineato L'importanza e la grandezza dell'opportunità Che gli è stata proposta a Bassano Tanto da definirla irrinunciabile Quanto a Bettelli ha ricordato tra gli obiettivi La volontà di continuare i rapporti Con Roma Academy e con il Gubbio Per me è un onore rappresentare l'Atletico Gubbio come nuovo responsabile tecnico So che mi aspetta un compito difficile Perché sostituire Luca per quello che ha dato Per l'impegno, per la presenza che ha avuto in questi anni Non è semplice Però cercheremo soprattutto di dare continuità Al lavoro che lui ha impostato Cercheremo di confermare la sinergia che abbiamo con la Gubbio Calcio E quindi passare dalla nostra attività di base All'attività agonistica nei campionati nazionali I nostri ragazzi E di cercare di migliorare il rapporto E di aumentare la sinergia che invece abbiamo con l'Academy della Roma Perché soprattutto a livello di formazione dei tecnici È una cosa che ci teniamo molto Perché il Presidente è stato abbastanza chiaro Il lavoro dei tecnici e degli istruttori dell'attività di base È predominante e fondamentale Per poter sviluppare poi dei ragazzi in grado di poter calcare campi importanti Ho preso questa decisione perché per me è un'opportunità importante Ma non perché qua mi sia trovato male Oppure per qualsiasi altro motivo Solo perché in questi anni Grazie alla famiglia dell'Atletico Ho avuto la possibilità di crescere E di capire soprattutto una volta smesso di giocare Perché da grande voglio fare l'allenatore Adesso è sorta questa possibilità all'improvviso E comunque non me la voglio fare scappare Luca è stato un ragazzino che è cresciuto qua da bambino In classe 1977 Poi ha avuto anche l'opportunità di fare calciatore professionistico È stato allenato da Zeman E da altri importanti allenatori Per cui porta un bagaglio di esperienza non indifferente Esperienza che ha dato qua in quattro anni di attività Che insieme ad altri allenatori In particolare Marco Bettelli che lo sostituirà È riuscito a portare avanti un lavoro estremamente importante E noi dell'Atletico siamo di questo molto contenti Quindi dispiaciuti da una parte che lui se ne va Contenti allo stesso tempo per il suo profilo Di futuro allenatore Torna Gualdo Tadino domenica 25 giugno La 27esima edizione della Sfacchinata La gara podistica organizzata dall'Atletico Taino Una corsa di 10 km che partirà ed arriverà al centro commerciale Portanova è valida per il Grand Prix Unicredit Fidal Umbria e per l'Umbria Tour Il programma prevede il ritrovo alle 8 Presso il parcheggio del Portanova Mentre l'orario di partenza è fissato per le 9.30 Le prescrizioni per società e singoli atleti Possono essere effettuate fino a venerdì 23 giugno Era l'ultima notizia Si chiude qui il Tg Sport Grazie per averci seguito Buona serata Grazie per averci seguito